Ciao cittadini di SIX, ci tengo subito a sottolineare che questo non è un canale ufficiale. Oggi volevo parlare della conversione da crediti a wallet che tanto sta a cuore a molti cittadini di SIX continent. Era da richiedere al supporto entro il 31 dicembre 2019 perché verso metà dicembre erano state trasformate tutte le vecchie turbo diciamo che caricavano il wallet in diciamo tra virgolette family box cioè in crediti perché il mister ha detto che diventeranno più convenienti con il nuovo SIX continent 2020. Ancora però non è ben chiaro l'utilizzo dei crediti e del wallet con il nuovo sistema quindi molti hanno richiesto di poter tornare indietro ed avere il proprio wallet. Allora andava fatto una richiesta entro come detto il 31 dicembre poi dal 2 gennaio loro stanno cominciando ad inviare una mail con scritto di confermare che proprio noi vogliamo fare la riconversione in wallet. Ecco l'importante è non scaricate niente abbiate pazienza ancora ancora fino a che non ve lo dicono loro perché se ne scaricate anche solo una non potete più tornare al wallet è stato detto chiaramente che la conversione va fatta totalmente quindi non si può avere su 10 SIX card per esempio 3 in wallet e 7 in crediti l'importante è non scaricare niente abbiate pazienza e loro ci guarderanno e hanno scritto che entro fine mese l'operazione sarà completata quindi mi raccomando ripeto ancora non scaricate niente ad oggi non è ancora ben chiaro come sarà utilizzato il wallet come sarà utilizzato il saldo crediti quindi è tutta un'incognita io personalmente ho richiesto il wallet però devo essere sincero qualche turbo io l'ho comprata con la bizza nel messaggio loro hanno espresso chiaramente che ci sono casi fraudolenti di acquisto di turbo e che si riservano di dare il wallet io sto attendendo se qualcuno ne sa più di me e poi agirò di conseguenza grazie a tutti forza six